Modicano è una pianta sana, vigorosa, molto produttiva lungo tutto il ciclo. Modicano coniuga le performance produttive ed agronomiche con le esigenze della grande distribuzione in termini di attrattività e di elevata shelf life del prodotto. La varietà è ideale per le coltivazioni nei cicli invernali, perché non teme le basse temperature e le escursioni termiche. Qualità costante ed elevata tolleranza al cracking. Qualità pezzatura uniforme, facilità di confezionamento ed eleganza dei frutti. Modicano è una vera eccellenza nel segmento del grappolo italiano. Mod Agreement ModOOD Grazie a tutti.